eccomi qua ragazzi piccolo tik tok tecnico sulla corrente ho preso questa colonina prese in acciaio l'ho già collegata alla corrente che viene da sotto questi sono i collegamenti il blu e il neutro la terra e la fase ovvero il cavo che porta la corrente prima di chiudere andiamo a vedere se arriva in corrente con il mitico tester andiamo ad accendere il mitico tester sulla corrente alternata a 600 perché la tensione di volt della corrente sono 220 quindi dobbiamo prendere la scala superiore prendiamo i puntali ne metto uno sulla fase quindi quello marron e quello nero sul neutro in questa maniera vado sul tester ed ecco i 230 perfetto il paletto funzionerà perfettamente prima di chiudere l'alloggiamento dei collegamenti con il coperchietto in dotazione vado di nastro tesa isolante un nastro speciale se volete vi lascio il link in descrizione per replicarlo è un nastro resistentissimo e coprirò questa parte il risultato dell'avvolgimento completamente protetto dall'umidità e voilà